Musica Quest'oggi siamo a Feltre, siamo venuti a trovare la nuova prima cittadina della città, Viviana Fusara. Grazie per averci accolti. Grazie a loro, buona giornata, buona giornata a tutti i telespettatori e ringrazio per darmi l'opportunità di potermi rivolgere ai cittadini e ai nostri cittadini. Ecco, la vostra amministrazione è in carica da qualche mese, ricordiamo dopo il ballottaggio di giugno, quindi le chiedo di tracciare un po' un bilancio di questi primi mesi di attività. Guardi, noi siamo estremamente soddisfatti innanzitutto perché abbiamo trovato una notevole disponibilità da parte di tutto il personale, del comune, dei funzionari, dei tecnici, degli operai, delle posizioni organizzative, dei dirigenti e quindi questa collaborazione ci ha permesso di entrare subito nel vivo del lavoro che ci riguarda. Stiamo lavorando tanto, abbiamo un gruppo molto coeso e siamo riusciti fin da subito a portare avanti alcuni progetti che avevamo definito anche durante il corso della campagna elettorale, per cui ad esempio lo sportello per i cittadini, lo sportello quindi di ascolto che abbiamo attivato presso i magazzini comunali con l'ampliamento dell'aspetto che riguarda la protezione civile, per cui i cittadini si possono rivolgere, trovano l'accoglienza dovuta per poter inoltrare le loro richieste, soprattutto coloro i quali non sono attrezzati con computer eccetera, trovano l'assistenza per inoltrare le loro esigenze. Oltre a questo chiaramente noi riceviamo, io ricevo tutti i giorni, ho visto tantissime persone per le quali siamo già riusciti ad attivare importanti azioni che li riguardino. Ecco, uno dei temi che sono emersi forse negli ultimi mesi di più è quello della viabilità. Avete preso delle decisioni, avete deciso di operare dei cambiamenti per quanto riguarda quello che è poi il centro tra il Ponte delle Tezze e Largo Castaldi. Sì, ecco, questa iniziativa parte già da quando abbiamo parlato con tanti cittadini, non solo i commercianti ma anche i cittadini residenti, che vedevano in questa viabilità così com'è ora una difficoltà di tanti tipi. Noi abbiamo impostato il lavoro ragionando in questi termini, pensando soprattutto ai cittadini che hanno maggiori difficoltà di raggiungere il centro, non so, parlo di persone con fragilità eccetera, che possono essere accompagnate di fronte a un negozio dove desiderano entrare alla farmacia e all'attività che abbiamo in centro. Abbiamo fatto un incontro con l'ASCOM e peraltro abbiamo parlato anche con i commercianti, per cui questa è stata una decisione, una delibera che è stata assunta all'unanimità da tutta la giunta, che è stata studiata nei dettagli grazie al lavoro dell'assessore Curto in sinergia con il comandante di Vigili, il quale si è occupato di tutta la realizzazione del progetto, con un lavoro anche oltre a quello che prevede la sua mansione e quindi di una notevole disponibilità, interpretando quelle che erano le volontà che noi avevamo visto essere importanti per la cittadinanza e condividendo con noi questo progetto, dando proprio mano praticamente alla realizzazione di questa nuova viabilità, che trova un notevole riscontro da parte della cittadinanza, perché noi abbiamo già avuto dei ritorni estremamente positivi, io penso che a breve riusciremo ad aprire come abbiamo previsto e che abbiamo fatto analizzare anche attraverso una conferenza stampa, per cui il percorso è molto chiaro, si è visto insomma che tipo di lavoro abbiamo svolto. Ecco, non significa centro sempre aperto perché ci sono poi dei giorni in cui gioco forza, la chiusura diciamo oltre a essere necessaria e poi anche comoda sotto il punto di vista se è che noi abbiamo ragionato su queste giornate appunto del mercato, il sabato e la domenica e poi evidentemente quando ci saranno degli eventi importanti è evidente che si procederà comunque alla chiusura, all'area pedonale. Nel frattempo ci sono anche opere che sono state impostate in passato e che ora hanno i loro cantieri che procedono. Ecco, anche per quanto riguarda questo aspetto io devo ringraziare in particolare l'assessore Bona, il consigliere Slongo e tutti gli altri consiglieri che stanno operando nel settore dell'urbanistica e lavori pubblici perché le opere che erano ferme da tempo sono state sono state riportate avanti con ragionamenti, con le imprese, con la sollecitazione eccetera per cui adesso i cantieri sono tutti aperti, questo è il Belvedere, quello del teatro e questo è un risultato importante perché di fatto da tempo i cantieri erano chiusi per cui la sollecitazione continua e il lavoro continuo degli assessori, dei tecnici hanno condotto alla riapertura di questi cantieri che speriamo a tempi brevi possano vedere le realizzazioni ultimate delle opere. Anche perché lei ha citato il teatro, il teatro è un bene importante per la città di Feltra, ha un interesse storico? Di una rilevanza non indifferente, noi speriamo davvero per quanto riteniamo potrebbe essere già alla fine di novembre il periodo durante il quale potremo vedere quest'opera definita e per poi iniziare ad andare anche presso il nostro teatro per vedere soprattutto la riapertura e le bellezze che il teatro offre, oltre a pensare poi a una stagione teatrale organizzata magari di concerto con altri enti, insomma questo poi vedremo successivamente nel momento in cui avremo l'opera realizzata e aperta al pubblico. Voi vi siete insediati e diciamo una crisi che si era già aperta ha poi avuto un peggioramento delle condizioni generali ed è la crisi energetica e vorrei capire come la state affrontando e se avete delle preoccupazioni poi particolari per i prossimi mesi. Sì, guardi noi ne abbiamo già parlato subito dall'inizio e quindi stiamo ragionando su alcune soluzioni che potranno essere, potranno un'efficacia e un risparmio maggiore per quanto riguarda l'illuminazione soprattutto e per quanto riguarda il discorso del riscaldamento. Noi abbiamo diversi palazzi che costano tantissimo, quindi stiamo pensando un attimo a una revisione e il risolamento lo stiamo condividendo anche con gli uffici eccetera come dicevo prima perché noi siamo soliti lavorare proprio in equip e arrivare poi ad una conclusione trattando anche con le associazioni, con le varie associazioni di categoria per riuscire ad arrivare, di venire a una soluzione che possa essere la più efficace possibile. C'è da dire anche che siamo molto soddisfatti per quanto riguarda l'eventuale assunzione ai posti di lavoro che aumenteranno in città perché venerdì ci sarà la manifestazione della prima posa dell'azienda della Clivet che intende ampliare sul nostro territorio la zona industriale e quindi per noi è motivo di soddisfazione perché abbiamo anche con loro ragionato non solo sui posti di lavoro ma eventualmente anche su un discorso di tipo energetico così come abbiamo ragionato con l'Aidro che è questa grossissima azienda che abbiamo a Feltre. Guardando al Natale avete già diciamo un quadro di come potrebbe funzionare il sistema delle luci o ci stanno ancora lavorando? Allora guardi guardando al Natale appunto anche il Natale rientra in un ragionamento complessivo però sappiamo che è una festa fondamentale ed è una festa insomma che tutti sentono e che vogliono vivere comunque. Credo che sia importante ragionare anche in termini di rispetto nei confronti dei cittadini sia per la festività di questa rilevanza che anche nel rispetto del fatto che tutti in questo momento sono in difficoltà con le bollette eccetera. Quindi cercheremo di proporre qualche cosa che effettivamente significhi Natale senza esagerazioni, senza situazioni che potrebbero anche offendere in qualche modo insomma i cittadini. Prima di Natale ci sono poi altre ricorrenze. La più vicina è il giorno in cui ricordiamo poi i nostri defunti. Per quanto riguarda i cimiteri della città avete già iniziato a fare dei ragionamenti? Sì guardi allora noi abbiamo sempre puntato tanto sul discorso dei cimiteri perché i luoghi così sacri insomma a nostro modo di vedere devono avere il massimo del decoro. Io devo ringraziare tutte le squadre appunto degli operai che sulla base dell'indicazione che abbiamo dato, si stanno dando tantissimo da fare. Noi speriamo di arrivare a questa festa preparati con i cimiteri che siano insomma soprattutto decorosi e anche accoglienti. Abbiamo anche per fortuna tantissimi volontari che si sono resi disponibili a partire dall'Associazione degli Alpine e volontari delle varie frazioni i quali collaborano con noi con molta attenzione e con molta disponibilità. Quindi il nostro grazie va proprio a tutta la collettività che ha interpretato il nostro modo di lavorare e che ci accompagna, ci aiuta. Per cui io ritengo che riusciremo a arrivare a questa festività con delle situazioni che siano adeguate e di rispetto soprattutto del luogo sacro quale il cimitero. Avete concentrato una linea di sforzi sul tema università. Sì, per quanto riguarda questo noi adesso stiamo cercando, abbiamo già avuto dei contatti, stiamo cercando di ragionare sull'università soprattutto in termini medico-sanitari perché abbiamo la Facoltà di Scienze Infermieristiche per la quale speriamo e prevediamo di poter avere un ampliamento verso una laurea magistrale ed eventualmente altri indirizzi che si colleghino a questo. Parallelamente cerchiamo di capire anche insieme con il Comune di Belluno quali possono essere gli indirizzi attrattivi per Feltre, più specialistici per Feltre ed eventualmente che cosa potrebbe essere interessante per Belluno. Sempre partendo dal presupposto che noi abbiamo già una piccola città universitaria partendo da Scienze Infermieristiche e quindi stiamo lavorando in questa direzione. Ecco, poi diventa importante l'università a livello locale anche perché poi nel caso specifico consente di coltivarsi in casa i lavoratori della sanità del futuro, dato che c'è una scarsità enorme. Sì, infatti anche per quanto riguarda questo c'è questo collegamento con l'ULS, noi abbiamo un ottimo rapporto anche con la dottoressa Carraro e sulla base di questo è importante capire che attraverso queste facoltà che sono presenti in zona poi queste persone, come dice lei, rimangano ad operare nella nostra zona. Quando effettivamente sappiamo essere il fatto di non avere medici, operatori sociosanitari è essere un grossissimo problema per il nostro ospedale. Quindi lavorando sull'università, evidentemente lavori sull'università e sull'ospedale stesso. E prima poi c'è tutto il ciclo delle scuole superiori. Avevate nei mesi scorsi ipotizzato una soluzione per quanto riguarda le scuole superiori che riguardava la Zannettelli? Beh, ovviamente il progetto della Zannettelli noi ce l'abbiamo sempre fermo. Riteniamo che sia il luogo più adatto per accogliere gli studenti per tanti motivi, per una questione di trasporti, per una questione di servizi per gli studenti stessi che si trovano ubicati fuori del centro, per l'indotto che questo potrebbe avere all'interno della città e quindi noi puntiamo comunque sulle Zannettelli sempre pensando a un discorso di tipo scolastico. Peraltro quest'area è dedicata proprio all'area scolastica e quindi rientra in linea con il nostro modo di interpretare l'ubicazione degli istituti. Peraltro c'è una similitudine con quello che si sta facendo a Belluno dove c'è quest'idea per le scuole superiori all'ex Fantuzzi, quindi forse avete trovato una similitudine in più. Sì, ecco, noi stiamo lavorando bene e in sinergia anche con il sindaco di Belluno per tanti aspetti, quindi credo che questo sia importante nel senso che poi ha una ricaduta il lavoro in sinergia con il comune di Belluno su tutta la provincia e quindi anche da questo punto di vista è fondamentale avere una progettazione comune, proprio perché essendo le due cittadine più popolate, danno anche un segnale, possono creare un indotto a tutto il territorio, anche agli altri comuni più piccoli, nel momento in cui c'è una visione del territorio condivisa. Per Feltre poi una visione ampia significa guardare anche a chi a livello di servizi si rivolge molto a Feltre anche se è fuori provincia perché c'è l'area del Primiero, il loro ospedale è l'ospedale di Feltre per esempio. È l'ospedale di Feltre, infatti su questo noi puntiamo molto proprio per questo motivo. Peraltro noi pensiamo che anche le frazioni, soprattutto stiamo lavorando anche sulle frazioni che necessitano per esempio di manutenzioni, asfaltature che abbiamo già portato avanti, stiamo facendo, devono essere valorizzate pur non avendo i servizi nella frazione stessa, desideriamo che le frazioni abbiano la stessa dignità e quindi i cittadini delle frazioni possono avere una vivibilità al pari dei cittadini del centro perché noi non abbiamo cittadini di serie A e di serie B e quindi stiamo ascoltando, come avevamo fatto anche in campagna elettorale, quelle che sono le esigenze dei cittadini delle frazioni e stiamo lavorando quanto meno perché queste frazioni siano maggiormente vivibili, con una scaletta di priorità che avevamo già visto durante il corso della campagna elettorale, ci stiamo spostando nelle frazioni, abbiamo l'opportunità di avere anche tanti consiglieri che provengano dalle frazioni che accolgono le istanze, le vediamo insieme e stiamo procedendo su quelle che sono innanzitutto le priorità che riguardano in particolar modo le manutenzioni, le asfaltature e cercare di creare i servizi significa vedere un attimo quali potrebbero essere le opportunità all'interno delle frazioni magari di avere qualche servizio in più e stiamo ragionando su come poter dare maggiori opportunità ai cittadini anche delle frazioni. Le ringraziamo per averci accolti. Io ringrazio infinitamente loro e buon lavoro e mi permetto di dire molto in anticipo ma buon Natale e buone feste a tutti. e quindi ci vediamo alla prossima tappa.